Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 per traffico intenso ci sono code alla barriera di Rosignano in direzione sud, sulla Fipili in direzione mare per incidente 3 km di coda tra Empoli Ovest e Santa Croce, per traffico intenso rallentamenti tra Montopoli e la deramazione Pisa-Livorno. Per lavori tra Firenze e Firenze-Scandici in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese, fino al 16 luglio strada chiusa tra via della Pietra e via di Montugi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!